Ciao a tutti amici di Fox Tech e benvenuti alla nostra recensione della DJI Mini 2 il nuovo drone di casa DJI che presenta un peso davvero ridottissimo infatti ha un peso compressivo di eliche già montate, di batteria e di SD di soli 242 grammi il che è l'unico drone, oltre naturalmente al Mavic Mini che può essere utilizzato tranquillamente senza dover sottostare a tutte le restrizioni che troviamo nel momento in cui andiamo ad acquistare un drone da un peso successivo comunque superiore ai 250 grammi rispetto alla generazione precedente troviamo tante novità prima di tutto il radiocomando, infatti è stato introdotto a QSync 2.0 il che ne ampia sicuramente le possibilità di utilizzo anche se va sempre pilotato a vista infatti ha una capacità di muoversi più lontano proprio perché non si andrà a perdere il segnale ed è infatti più stabile rispetto al segnale Wi-Fi allo stesso modo abbiamo possibilità di registrare in 4K a 30 frame per secondo e troviamo anche tante piccole altre novità il che rendono questo drone molto appetibile soprattutto agli utenti che vogliono spendere poco ed avere poco impegno da un punto di vista legislativo ma adesso lo vediamo da vicino e ne scopriamo tutte le specifiche tecniche facciamo qualche piccolo test dopo la nostra sigla DJI Mini 2 non è una flycam ma è un vero e proprio drone quindi abbandoniamo questa denominazione che avevamo visto su Mavic Mini e ci buttiamo direttamente su un drone vero e proprio nonostante comunque abbia un peso di 242 grammi incluso di microSD e di batterie di eliche e dimensioni che vanno in linea con quanto avevamo visto su Mavic Mini infatti raggiunge 140x82x57mm una volta che è chiuso oppure aperto con eliche incluse 245x290x55mm esteticamente il classico drone di casa DJI cioè Sassi Ficar che è realizzato in plastica grigia con eliche anch'essa in plastica morbida quindi sono facilmente piegabili nella parte inferiore è presente l'unico sensore che permette naturalmente il decollo e l'atterraggio con i 4 led che certificano la carica della batteria ed i pulsanti di accensione e spegnimento posteriormente troviamo la microSD o meglio lo slot per la microSD in quanto questo Mini 2 non ha naturalmente una memoria interrata e dovrà essere utilizzata una microSD per una dimensione massima di 256GB e lo slot per la batteria quest'ultima ha una capacità inferiore rispetto al passato raggiunge 2250 mAh e ha un peso di circa 86,2 grammi come durata di utilizzo chiaramente dipende tanto dalle modalità in cui lo utilizzate e dalle condizioni atmosferiche in particolare immaginando un utilizzo normale in termini proprio variabili tra modalità normale e sport e condizioni atmosferiche perfette quindi in assenza di vento abbiamo testato circa 25 minuti di volo continuativo secondo DJI sarebbero 31 ma sono un po' troppi o meglio si possono raggiungere se proprio lo tirate al massimo e arrivate con l'1% di carica residua 25 minuti sono più che realistici sono sicuramente molto ma molto interessanti di base è comunque un drone più potente infatti ha motori più potenti riesce a raggiungere 57,6 km orari di velocità massima orizzontale in modalità sport e 36 km all'ora in modalità normale ma noi invece di velocità di ascesa e di discesa abbiamo circa 3,5 metri al secondo l'essere più potente permette sicuramente di resistere ad un vento di scala 5 che avrà una velocità di 8,5-10,5 metri al secondo ma è in parallelo anche più scattante ciò significa che effettivamente nel momento in cui basta spostare di pochissimo la levettina che il drone faccia movimenti più difficili da controllare rispetto a Mavic Mini o comunque agli altri modelli in parallelo data l'assenza totale di sensori rende questo drone sicuramente più difficile da comandare rispetto ad un drone con sensori e con motori più in linea naturalmente con il peso perché essendo così leggero basta davvero poco per spostarlo e se viene messo tra le mani di un utente particolarmente desperto potrebbe anche essere più pericoloso perché non avendo il sensore non vengono inviate notifiche non viene bloccato nel momento in cui può andare a sbattere e quindi oltre naturalmente ad andare a rompere il drone stesso potrebbe recare danno anche a persone e cose anteriormente invece è stato posizionato un sensore da 12 megapixel un CMOS con angolo di visuale di 83 gradi a 24 mm e apertura f2.8 ha una messa a fuoco da una distanza minima di 1 metro e permette di scattare istantanee con ISO oscillanti tra 100 e 3200 con velocità dell'otturatore che oscillerà anch'essa tra 4 e 1,8 millesimo di secondo per una posa massima di 60 secondi è un sensore che porta sicuramente una grande novità qual è la registrazione in 4K a 30 fps e uno zoom 2x nonché una registrazione in Full HD a 60 fps e uno zoom 4x parlando prima di tutto degli scatti fotografici ho sicuramente apprezzato i colori che sono risultati di essere più saturi ma non in grado comunque di perdere il dettaglio sono ottimi sotto ogni punto di vista anche in termini di nitidezza la temperatura colore non è particolarmente fretta il che sicuramente considerato il prezzo di vendita lo rende uno dei migliori attualmente disponibili sul mercato se proprio dovessi trovare un aspetto negativo è forse un rumore non troppo lieve rispetto proprio alle condizioni in cui lo utilizziamo ho notato ad esempio in aperta campagna con forte luce un forte rumore anche nel momento in cui provo ad andare a effettuare un piccolo zoom sullo scatto stesso questo è chiaramente causa anche proprio della natura del drone entry-level in quanto comunque nel momento in cui noi andiamo ad acquistare un drone di fascia bassa lo potremmo definire tale non ci si può neanche aspettare più di tanto abbiamo sicuramente apprezzato la presenza degli scatti RAW e la possibilità di sfruttare una modalità di autoesposizione la quale permette di scattare tre immagini con esposizioni differenti e raccoglierle in un unico scatto per avere un maggior dettaglio una migliore nitidezza manca sicuramente l'HDR automatico e manca un intervallo dinamico più ampio quindi abbiamo un intervallo dinamico che potremmo definire relativamente limitato apprezzabile comunque la presenza di immagini temporizzate che però non vengono racchiusi all'interno di un timelapse nonché i controlli di ISO e di tempi di posa direttamente dall'applicazione DJI Fly la quale è la stessa che abbiamo visto sui precedenti modelli che effettivamente non vi mostrerò perché non cambia in nessun modo rispetto a quanto avevamo già visto ad esempio sempre qui sul canale parlando di scatti da segnalare le solite modalità panorama panorama circolare che forma una sfera la quale può essere solamente apprezzata dall'applicazione DJI Fly oppure panorama in termini di grande angolare il quale mi va a creare un'immagine 3x3 oppure un panorama a 180 gradi tutte queste modalità vengono gestite interalmente e in maniera esclusiva dal drone stesso il quale poi va a combinare gli scatti in un'unica immagine e sono davvero molto ma molto belle soprattutto nel momento in cui volete utilizzare il drone anche per scattare istantanei poiché di base chiaramente l'utente lo vuole utilizzare per registrare video in questo caso come vi ho già detto registra in 4K a 30 fps a 100 Mbps le migliorie rispetto alla generazione precedente sono notevoli infatti abbiamo prima di tutto la possibilità di effettuare lo zoom direttamente dall'applicazione ed è uno zoom digitale in 4K ha al massimo 2x mentre in Full HD ha un massimo 4x la differenza tra i due zoom ricordando che entrambi sono digitali è legata al Full HD il quale avrà uno zoom 2x che è il digitale classico che abbiamo visto su 4K in aggiunta a un 2x che viene definito lossless ovvero viene utilizzato all'ampiezza del sensore e abbiamo un'inquadratura più limitata e quindi si riesce ad ottenere un effetto zoom rispetto ad un sensore che di base registra in 4K è un meccanismo che vediamo molto spesso anche su camere o comunque su smartphone parlando di qualità di registrazione video non possiamo dirgli nulla perché è il classico DJI quindi ottima registrazione ottima stabilizzazione dettagli precisi nitidezza dei colori e una capacità di riuscire in tantissime condizioni di luce a partire proprio dalle condizioni di forte luminosità fino ad arrivare a condizioni relativamente più scarse ciò che mancano sono sicuramente alcune funzionalità che troviamo su modelli più costosi in quanto data l'assenza di sensori non abbiamo la possibilità di utilizzare Activity Track o quant'altro ma questo non va ad inficiare la qualità di registrazione che è sicuramente migliore rispetto alla generazione precedente anche se come da un punto di vista fotografico notiamo in alcune occasioni fin troppo rumore rispetto a quanto effettivamente ci saremmo aspettati parlando invece di modalità particolari segnaliamo i soliti quickshot quindi droni e quant'altro che abbiamo già visto e rivisto anche sui modelli come DJI Mavic Air 2 DJI Mavic Air e similari l'ultima grande novità del DJI Mini 2 è il radiocomando il quale è identico al radiocomando del DJI Mavic Air 2 poiché a differenza dalla generazione precedente in cui avevamo un sistema di trasmissione wifi in questo caso andiamo direttamente sul Locus Sync 2.0 il quale ne amplia sicuramente le possibilità di utilizzo perché è un sistema di trasmissione che è più stabile e permette di raggiungere distanze maggiori nonostante comunque sia un drone da comandare a vista infatti secondo DJI si possono raggiungere fino a 6 km naturalmente in orizzontale e almeno 500 metri in verticale infatti il miglioramento è palpabile proprio perché è un sistema che permetterà di navigare tranquillamente anche in aree un po' più disturbate da un punto di vista delle onde radio o quant'altro poiché ad esempio nella generazione precedente bastava una casa o anche un insieme di piante affinché si potesse perdere il segnale cosa che non accade con questo Mini 2 la trasmissione OcuSync 2.0 è stabilissima permette un live view fino a 720p quindi HD e una latenza di 200 millisecondi parlando invece di radiocomando abbiamo la possibilità di adagiare al suo interno smartphone fino ad una dimensione massima di 180x86 per 10 mm di spessore sfruttando le varie prese che troviamo preimpostate all'interno del radiocomando stesso quali sono lighting micro usb e type c ma a dimensioni questo radiocomando effettivamente maggiore rispetto al drone stesso perché è più grande ed è più pesante poiché raggiunge 400 grammi di peso nonostante comunque interi al proprio interno una batteria da 5200 mAh che ne garantirà un utilizzo continuativo per circa 5 ore quindi immaginate di utilizzarlo anche quasi per 5 batterie senza dover effettivamente ricorrere ad una presa a muro è un ruolo di comando davvero molto ma molto ben fatto perché l'impugnatura è salda può essere tranquillamente utilizzato senza particolari difficoltà però l'unico appunto che vi posso dire è proprio riguardante il peso e le dimensioni che sono maggiori dal drone stesso e quindi vanno ad appesantire particolarmente l'utilizzatore che vuole un dispositivo il più portabile possibile parlando infine di stabilizzatore ricordiamo comunque che questo drone ha uno stabilizzatore a tre assi che permette un'inclinazione da meno 110 a 35 gradi un rollio da meno 35 a 35 e una rotazione orizzontale da meno 20 a 20 gradi è uno stabilizzatore molto ma molto ben fatto che non risente in alcun modo naturalmente del vento proprio grazie anche ai motori più potenti e quindi potrà essere utilizzato senza particolari problemi in qualsiasi condizione in aggiunta abbiamo un DJI Mini 2 che avrà un supporto al posizionamento satellitare Galileo il che renderà ancora più precisa la visualizzazione su mappa del posizionamento del drone stesso in conclusione questo DJI Mini 2 è un ottimo drone anche se naturalmente vanno individuati aspetti positivi e aspetti negativi tra gli aspetti positivi annoveriamo prima di tutto il peso e la portabilità perché ha un peso di 242 grammi con SD e batterie incluse ed è davvero molto molto portabile oltre che naturalmente può essere utilizzato senza patentino e quindi rientrare sotto il range dei 250 grammi e limitare in parte le normative che attualmente risultano essere attive per i droni superiori in termini di peso ai 249 grammi allo stesso modo abbiamo sicuramente un sensore maggiormente qualitativo rispetto alla generazione precedente infatti un sensore da 12 megapixel permette di registrare in 4K a 30 fps e quindi garantisce una buona ripresa video con un buon dettaglio buoni colori una buona nitidezza lo avete visto nel corso della recensione e in parallelo anche ottimi scatti fotografici in ultimo abbiamo sicuramente i motori perché sono motori più potenti quindi abbiamo un dispositivo più rapido raggiunge circa 57 km all'ora naturalmente in movimento orizzontale velocità naturalmente orizzontale in modalità sport e in parallelo una maggiore resistenza al vento ciò significa che è un drone che può essere utilizzato anche in condizioni meteorologiche più avverse rispetto naturalmente alla generazione precedente per ultimo vi voglio parlare naturalmente dal radiocomando perché è un aspetto importante ed è un aspetto positivo perché è stato introdotto il sistema Ocusync 2 di trasmissione che abbiamo già visto su DJI Mavic Air 2 e un radiocomando che naturalmente riprende quanto abbiamo proprio visto sul modello appena citato infatti è un radiocomando che permette una capacità di utilizzo fino a 6 km anche se va naturalmente sempre pilotato a vista e quindi una possibilità di utilizzare questo drone in determinate condizioni e con un segnale sicuramente più stabile rispetto al segnale wifi che avevamo visto sul Mavic Mini che effettivamente durava davvero poco infatti bastava ad esempio una pianta un insieme di piante o anche solamente una casa affinché si rischiasse di perdere il segnale quindi questi tutti aspetti positivi ne ampliano prima di tutto le possibilità di utilizzo lo rendono un filino un po' più professionale naturalmente entro determinati limiti però sono presenti anche aspetti negativi il primo aspetto negativo è sicuramente il prezzo perché di base parte a 100 euro in più rispetto alla generazione precedente quindi versione base abbiamo 499 euro Fly More Combo 599 euro di listino chiaramente dopo in rete trovate anche prezzi differenti personalmente vi consiglio di acquistare la Fly More Combo perché in pratica ha tanti aspetti positivi poiché abbiamo naturalmente la custodia abbiamo il radiocomando e i drone che sono naturalmente presenti in entrambi con 3 batterie cariche a batterie multiple che è davvero comodissima una batteria lo avete visto dura circa 25 minuti di volo medio in termini anche proprio di modalità di utilizzo modalità normale modalità sport e quant'altro e il protege eliche che personalmente ritengo davvero una genialata perché va sicuramente a facilitare il trasporto vedete mi blocca le eliche io posso posizionare il drone ad esempio in uno zaino così com'è e non avere problemi affinché effettivamente si possano rovinare quindi se state pensando di acquistarlo personalmente vi consiglio la Fly More Combo però sicuramente è un aspetto negativo perché 599 euro sono tanti e avvicinano in termini di prezzo questo Mini 2 al Mavic Air 2 che si trova a circa 849 euro in versione base ed è sicuramente un drone più completo e più professionale rispetto allo stesso parlando sempre di aspetti negativi ritengo negativo le dimensioni del radiocomando in quanto comunque è un radiocomando che migliora tantissimo l'utilizzo del drone però è un radiocomando più grande ad esempio del drone stesso lo vedete qua vi faccio un confronto vedete voi stessi che è più grande e più pesante abbiamo un radiocomando di 400 rammi e un drone di 242 rammi ciò stasificare che se li porto entrambi nello zaino questo mi andrà ad appesantire molto di più del drone e naturalmente il drone non può essere utilizzato senza radiocomando questo è naturalmente un aspetto negativo marginale però va preso in considerazione nel momento in cui lo andate ad acquistare per ultimo abbiamo sicuramente un drone privo di qualsiasi tipologia di sensori quindi già lo avevamo visto su Mavic Mini in questo caso abbiamo solamente il sensore posteriore o meglio posizionato nella parte inferiore che va a misurare l'altezza e mi aiuta nel momento in cui atterro e nel momento in cui il decollo quindi un sensore che in termini pratici di utilizzi continuativi comunque di utilizzi quotidiani è inutile e rende il drone sicuramente tra virgolette pericoloso in mani inesperte in quanto abbiamo collegandoci agli aspetti positivi un drone più potente ciò stessificare che nel momento in cui ad esempio lo vado a comandare col mio radiocomando è più scattante quindi anche spostando di poco la levetta si sposterà più rapidamente riesce a raggiungere velocità maggiori e proprio nel momento in cui noi andiamo a metterlo nelle mani di un utente più inesperto in quanto essendo dentro il level è quello che costa relativamente di meno e ciò stessificare che l'utente che vuole un drone andrà direttamente su questo non spenderà quasi 1000 euro per un Mavic Air 2 potrebbe essere pericoloso perché è più rapido ed è più difficile controllarlo se naturalmente non si ha una determinata esperienza sicuramente il passo in avanti rispetto alla generazione precedente è notevole e fra i due è sicuramente meglio questo DJ Mini 2 se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutti i futuri video